Benvenuti al congresso internazionale sulla prevenzione degli abusi e maltrattamenti dei minori organizzato dall'Aspi. Oltre ad essere la fondazione di più alta qualità nella Svizzera italiana con più di 30 anni di esperienza, l'Aspi ci darà questa bellissima opportunità di ascoltare la saggezza, di ascoltare l'esperienza di un insieme di esperti multidisciplinari che vengono da organizzazioni mondiali, nazionali e anche locali e che ci presenteranno quelli che sono gli interventi attuali, le sfide e le testimonianze di tutti noi che vogliamo contribuire a tutto ciò che dobbiamo fare prima che accada. Quindi sentitevi liberi di unirvi e di contribuire a questo evento speciale. Grazie a tutti.